Ma tu lo usi il cervello? No, prendilo tu! Esplorando il corpo umano, un modello anatomico da montare con vene e arterie luminose. Ci vuole fegato! Nilsa, pancreas, fegato! Organi realistici per toccare e super dettagliati per imparare. Gli approfondimenti e i mitici cartoni animati in DVD. Mi dai il tuo cuore! Compratelo! Esplorando il corpo umano, prima uscita con DVD e modello a 2,99€. De Agostini. Giocando si impara.